Pace del Signore a tutti, fratelli e sorelle. Oggi vorrei parlare velocemente, dire qualcosina su Maria, la madre di Gesù Uomo. La madre di Gesù Uomo. Chi è Maria? Beh, Maria era una discendente di Davide, insieme a Giuseppe, anche lui discendente di Davide. Maria fu scelta per la grazia di Dio, perché ricordiamoci che quando c'è la parola grazia vuol dire per un qualcosa di immeritato, di un qualcosa che non abbiamo fatto nulla noi per poter arrivare, avere accesso a quella grazia che Dio rilascia su di noi. Maria, per la grazia di Dio, fu scelta tra le tante donne di questa terra, fu scelta per far nascere il figliuolo di Dio. Ricordiamoci che il figliuolo di Dio doveva nascere, Dio doveva diventare carne. Scusate l'interruzione. Quindi stavamo dicendo, Maria fu scelta dalla grazia di Dio per far nascere il figlio di Dio, perché il figliuolo di Dio, la parola doveva diventare carne, dirai in Giovanni. Doveva diventare carne per diventare simile a tutti i suoi fratelli, simile a noi, simile a tutti noi, che poi, per la grazia di Dio, siamo diventati fratelli in quanto figliuoli di Dio. Quindi doveva diventare simile a noi, doveva andare in croce e doveva morire per i nostri peccati. Quindi doveva diventare uomo, doveva nascere, nascere come tutti noi, quindi da un grembo materno doveva nascere, ma non da un seme umano, ma dalla potenza di Dio doveva nascere, perché è simile a noi, ma non sotto, diciamo, sotto Adamo. Insomma, noi siamo nati sotto Adamo, mentre lui è venuto direttamente dal cielo, dalla potenza di Dio. Va bene, voglio leggere in Luca capitolo 1, quando parla dell'angelo che arriva a Maria e annuncia la nascita del Benedetto. Al versetto 26 dice Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, chiamata Nazaretta, a una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe. Allora, partiamo da un presupposto che Maria era vergine quando doveva nascere il Messia, perché nel cattolicesimo Maria viene portata avanti come la vergine eterna, come se fosse rimasta sempre vergine. Però partiamo da un presupposto che uomo e donna, quando si sposano, si sposano per un obiettivo, mettere su famiglia. Quindi, se lei è a quel tempo, era vergine, ovviamente nel momento in cui poi si è sposata con Giuseppe, dopo la nascita di Gesù Cristo, si sono uniti, punto. La sua verginità è finita lì, perché Dio non ti dà in moglie a un uomo per far rimanere l'uomo senza unirsi con una donna, con la donna con cui si è sposato. Quindi, sfatiamo sto mito. Maria non è rimasta vergine a vita. Maria non è rimasta vergine. Maria si è unita a suo marito, punto. Infatti, l'angelo dice, adesso non so se è qua o in Matteo, dice che non dovranno avere rapporti Maria e Giuseppe finché non sia nato il Cristo. Finché. Gli dà un limite. Fino a quel momento. È come dire, non berrai vino finché. Ok? Fino al termine di un tempo. E quel tempo era la nascita del Messia. Dopo la nascita del Messia, basta. Lei e suo marito potevano stare insieme, potevano unirsi come qualsiasi altra coppia. Quindi, sfatiamo sto mito. Non è stata, non è sempre vergine. Basta dire la vergine Maria. Era vergine, basta. Finita lì. Non andiamo avanti, non qualcosa in un discorso che non ha né capo né coda, quando la parola di Dio ti sta dicendo qualcos'altro. Quindi era fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, anche lui, come abbiamo detto. Il nome della vergine era Maria. Quando l'angelo fu entrato da lei disse ti saluto o favorita dalla grazia. Il Signore è con te. Amen. Benedetto è il nome del Signore. Ti saluto o favorita dalla grazia. Perché? Perché con tutte le donne che c'erano in Israele, con tutte le donne vergine che c'erano in Israele, Dio ha scelto in quel momento Maria. Quindi Dio ha scelto lei? Adesso, sinceramente, non posso dire per quale motivo Dio ha scelto lei, a parte il fatto che era della stirpe di Davide, poi era anche, aveva una parentela, comunque anche con Elisabetta e con Zaccaria. Scusate l'interruzione ancora. Stavamo dicendo, non sappiamo, almeno io personalmente non so i motivi per cui Dio ha scelto lei, non perché era pura, nel senso che senza peccato, perché la parola di Dio ci insegna che tutti hanno peccato e sono prive dalla gloria di Dio, l'unico è Cristo, quindi non perché era immacolata, è nata senza peccato e tutte queste frottole qua, perché la parola di Dio ci insegna altro, non lo so, sinceramente non lo so, non so se c'è chi lo sa, se c'è qualcuno che lo sa me lo può dire, perché scelse proprio lei, fondandosi sulla verità, ovviamente non sulle menzogne. Però ha scelto lei, quindi favorita, cioè la grazia di Dio in questo tempo e in questo preciso momento ti ha favorita, poi torniamo al fatto che Dio era in silenzio da almeno 400 anni, non c'erano profeti che giravano in Israele, cioè non c'era la gloria che si manifestava nel passato in mezzo al popolo di Israele e stavano iniziando a rivivere qualcosa che non si manifestava più da tantissimo, quindi favorita dalla grazia, cioè la grazia divina di Dio, la misericordia, la bontà di Dio, sta scegliendo te in questo momento per far sì che da te nasca il figlio di Dio. Infatti dice, favorita dalla grazia, il Signore è con te, gloria a Dio, il Signore è con te come il Signore è con ognuno di noi, ma in quel momento gli stava dicendo l'angelo, il Signore è con te, il Signore è con te, perché ti ha scelta in questo momento affinché tu possa portare avanti i piani di Dio, possa tu far sì che Dio possa portare avanti i suoi piani attraverso questa scelta che tu farai, perché Maria poi sceglierà, giustamente, Dio non gli sta imponendo niente, l'angelo gli dice, il Signore è con te o favorita dalla grazia. Benedetta sei tu fra le donne, perché Benedetta sei tu fra le donne? Oggi viene portata questa cosa come se Maria effettivamente fosse stata esaltata al di sopra di ogni essere umano, al di sopra di ogni creatura. Benedetta sei tu fra le donne, perché? Perché Dio ti sta facendo grazia. Ricordiamoci che ognuno di noi, quando viene scelto da Dio per compiere un'opera nel suo nome, qualcosa di particolare, una chiamata particolare, in quel momento c'è la benedizione di Dio, c'è la benedizione di Dio, perché? Perché noi non facciamo nulla. Paolo fu un grande benedetto da parte di Dio, perché da persecutore è diventato perseguitato, è edificato tantissimo nel nome di Gesù Cristo, ha fatto tantissimo Paolo. Quindi lui fu scelto in quello, lei fu scelta in questa cosa, per questo la beatitudine, benedetta sei tu fra tutte le donne, perché? Perché in te, se accetterai, verrà fuori il benedetto di Dio, il figlio di Dio. Quindi ogni donna si ricorderà di questa grande benedizione che Dio ti ha fatta. È normale, è normale, perché da te è nato il Messia. Quindi ogni donna si ricorderà di questa grazia che ti è stata concessa, di partorire il figlio di Dio. E la vedutolo fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. Allora l'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia, oh gloria, hai trovato grazia. Vedete, è bello trovare grazia presso Dio. Se Maria ha trovato grazia davanti agli occhi di Dio, come quando Noè trovò grazia presso Dio, è perché aveva un cuore, un cuore retto davanti a Dio. È perché aveva un cuore retto. Ed è per questo che noi troviamo grazia presso Dio. Perché il nostro cuore è retto davanti a Dio, il nostro cuore cerca Dio. Quindi troviamo grazia agli occhi di Dio. Noè nella sua generazione fu un uomo giusto e trovò grazia presso Dio e quindi Dio ha potuto stipulare con lui un patto. Cioè, capite, la misericordia di Dio. Ma non per questo Noè fu innalzato come uomo re del cielo. Cioè, perché oggi veramente se ne sentono di tutti i colori. Cioè, Maria viene chiamata regina del cielo. Cioè, c'è gente che va predicando che Maria si è posta a sedere alla destra del figlio di Dio. Ma dove? Ma dove? Cioè, io non so se se certe persone leggono veramente gli scritti dei cosiddetti padri della Chiesa e fondano le proprie dottrine su quello. Perché, cioè, sinceramente io non so da dove le vanno a prendere. Vogliono avvalorare tutto usando la parola di Dio, ma con la parola di Dio non vanno ad avvalorare niente. Perché prendendo un versetto, un altro, dicendo questo rappresenta questo, questo, quest'altro e lo riporta. Cioè, non è così che funziona. Cioè, ci sono situazioni dove dove nell'Antico Testamento Dio attraverso quello che faceva nell'Antico Testamento faceva risplendere le cose, era un'ombra di quello che comunque si sarebbe manifestato nel Nuovo Patto. Cioè, però non si possono prendere personaggi dell'Antico Testamento tipo la regina dell'Antico Testamento con il suo rapporto con il re di quel tempo e dire questa rappresenta Maria, quello rappresenta Cristo, quindi lei si è posta a sedere alla... Cioè, no, assolutamente, anche perché la parola di Dio non va ad avvalorare nessuna di queste teorie, perché sono teorie, non è dottrina, è teoria umana. Il problema è che la si insegna come parola di Dio, come dottrina e questa cosa è una cosa che non va bene. Ricordiamoci, benedetta dalla grazia di Dio. Sei stata benedetta, hai trovato grazia presso Dio come tutti coloro che vengono scelti da Dio. Anche i dodici apostoli hanno trovato grazia presso Dio perché furono chiamati per essere i primi, le prime pietre dell'edificio spirituale che Dio doveva edificare. Nella città, nella Nuova Gerusalemme, noi vediamo che la parola ci dice che i loro nomi erano come fondamento di quella città, quindi non fuoriusciamo dalla verità. Non so perché tanti che magari sono passati anche nella verità se ne escono. È vero l'apostasia negli ultimi tempi la parola di Dio ce lo dice, sarebbe arrivata al cielo. Però mi spiace, mi spiace perché purtroppo poi la gente segue queste persone e finiscono purtroppo a camminare nell'errore perché queste persone li guidano nell'errore. Ecco, hai trovato grazia presso Dio e questa grazia che cosa farà? Questo, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore di Dio gli darà il trono di Davide suo padre. attenzione a lui verrà dato il trono non a lei il trono viene dato a lui al figlio che deve nascere non alla madre ah e attenzione non è regina in quanto lei non è sposata con un re non è unita con un re lei è semplicemente una donna che non ha nessuno non ha un marito re per cui lei può essere chiamata regina non è sposata con Dio lei non è fisicamente sposata con Dio lei fa parte della chiesa entra a far parte della chiesa ok? la chiesa come sposa dell'agnello ma a lei non è regina di niente cioè lei non è regina del cielo capite? questo sarà grande e gli darà il trono di Davide suo padre e egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine vedete ecco la beatitudine tu sei beata fra tutte le donne cioè la beatitudine è perché comunque è l'opera della grazia di Dio no? la benedizione di Dio che opera nella tua vita in tuo favore tu non hai fatto nulla hai semplicemente camminato cercando il volto di Dio e la grazia di Dio viene a operare in favore tuo quindi è normale che tutte le donne mi chiameranno beata perché hai ricevuto una grazia che tutte le altre donne non possono ricevere perché? perché il figlio di Dio nasce una volta come uomo per sempre e basta non deve succedere più Maria disse all'angelo come avverrà questo dal momento che ancora non mi sono unito a nessun uomo sì mi devo sposare ma ancora non mi sono sposata come faccio io a concepire adesso e a partorire? e l'angelo le rispose lo spirito santo verrà suddita e la potenza dell'altissimo ti coprerà dell'ombra sua perciò colui che nascerà sarà chiamato santo figlio di Dio sarà opera di Dio sarà tutta opera di Dio tu partorirai un figlio benedetto il figlio di Dio ecco Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace Maria disse ecco io sono la serva del Signore e mi sia fatto secondo la tua parola e l'angelo se ne andò in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione Montuose in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta probabilmente andò a vedere se effettivamente quello che gli era stato detto era così cioè se Elisabetta era effettivamente rimasta incinta appena appena Elisabetta udì il saluto di Maria il bambino le balzò nel grembo ed Elisabetta fu ripiena dello Spirito Santo e ad alta voce esclamò Benedetta sei tu fra le donne perché Benedetta sei tu fra le donne l'angelo ce l'ha detto perché Maria era benedetta fra le donne perché tra tutte le donne della Giudea a quel tempo la grazia di Dio si posò su di lei non su altre su di lei la grazia di Dio in quel momento si è posata su di lei come fu benedetto Noè quando in quel tempo la grazia di Dio si posò su di lui e non lo distrusse con tutti gli altri ma lo salvò fu benedetto fu stra benedetto fu benedetto fra tutta l'umanità perché? perché è stato l'unico insieme alla sua famiglia ad essere salvato ma questo non lo eleva al di sopra di ogni creatura non gli dà un posto di fianco al figlio di Dio anche perché ricordiamoci no lei è seduta alla destra di Dio dicono ma quando gli apostoli indicarono chiesero chi è che si doveva siedere alla destra e alla sinistra nel suo regno Gesù non ha detto mia madre no non ha detto mia madre tu spetta a colui per il quale il padre mio ha deciso tu sei benedetta fra le donne perché? perché benedetto è il frutto che c'è dentro di te un qualcosa che nessuno ha mai gustato nei tempi passati che nessuno gusterà nel tempo futuro perché il Cristo nasce una volta e Dio nella sua infinita bontà nella sua infinita misericordia ha scelto te perché sei qualcuno perché sei più grande di tutti gli altri perché sei speciale no perché ti ha visto giusta quindi ha scelto te per la sua infinita misericordia ti ha scelto ringrazia Dio come farà e vai avanti non ti esaltare non ti innalzare non ti mettere al di sopra degli altri questo è ciò che insegna la parola di Dio su tutto e tutti nessuno escluso come mai mi è dato che la madre del mio signore venga da me poiché ecco non appena la voce del tuo saluto mi è giunta alle orecchie per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo è lo spirito di Dio come rivela lo spirito di Dio deve rivelare lo spirito di Dio deve far conoscere i disegni e i suoi piani quindi rivelò l'opera che Dio stava compiendo attraverso Maria l'opera del salvatore che doveva venire nel mondo anche a Elisabetta perché fu ripiena no? lo spirito santo scese su di lei e comprese poi dice beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del signore avrà un compimento eccola la beatitudine beata sei tu perché perché hai creduto beata sei tu perché hai creduto che ciò che ti è stato detto si compierà Maria non fu scelta perché era qualcuno di speciale la parola di Dio non ce lo insegna non insegna questo né nel passato è inutile andare a prendere passi nel passato ma questa rappresenta Maria ma per favore abbiate pietà della verità ma andiamo ma camminiamo rettamente ma cosa ci costa camminare nella semplicità perché dobbiamo rovinarci la vita volendo andare a prendere cose che non c'entrano niente e farle passare come parola di Dio perché perché dico io Paolo ci dice non andate oltre quello che è scritto e se non lo vedete scritto non inventatevelo dicendo dicendo che è scritto volendo usare la parola di Dio per dire menzogna Dio non ci chiama usare la parola di Dio per dire menzogna è così semplice il discorso tra l'angelo Gabriele e Maria tra Maria e Elisabetta ecco sei beata perché perché Dio ti ha scelto in questo momento ha fatto grazie su di te ecco la tua beatitudine non su altre donne ma su di te come furono beati gli apostoli perché hanno ricevuto un qualcosa che nessuno riceverà mai più cioè essere i primi le prime pietre viventi edificare il corpo spirituale coloro che hanno ascoltato la voce di Cristo l'insegnamento e sono stati mandati come primi un qualcosa che non riceverà mai nessuno sono beati ma non li eleva al di sopra di altri cioè noi dobbiamo comprendere quello che ci insegna la parola di Dio e non andare a casaccio perché veramente sì l'apostasia c'è purtroppo vedere persone come se ne vanno è una cosa assurda veramente al versetto 46 Maria disse l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio salvatore amén gloria Dio Maria come riconosce che sa chi è sa di essere una semplice serva una semplice serva che in quel momento accettando di far partorire di partorire il Cristo sta compiendo un servizio a Dio Maria riconosce la sua servitù all'eterno siete voi che non la riconoscete e che volete elevarla al di sopra di ogni creatura come qualcuno di speciale qualcuno di speciale come sono speciali tutti coloro che accettano di servire Dio e di camminare nella volontà di Dio perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva e non dice egli ha guardato a me che sono speciale ha guardato a me che sono meglio di tutti gli altri ha guardato a me che sono santa immacolata senza peccato una nascita senza peccato che dovete spiegarmi anche come avviene visto che Cristo è perché non è nato da un semi umano ma lei è nata da semi umano quindi dovreste dirmi lei come fa a nascere pura santa casta se è senza nessun tipo di peccato se è senza niente questo è da spiegare lei dice perché egli ha guardato l'idione potente ha guardato alla bassezza della sua serva all'umiltà della sua serva al fatto che vuoi servire Dio vuoi camminare nella volontà di Dio cerchi di camminare nella giustizia di Dio Dio ha guardato a quella bassezza beati i poveri in spirito perché poi comunque Dio si serve di poveri in spirito perché uno povero di spirito è una persona umile è una persona umile è una persona che si lascia maestrare da Dio ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata eh certo chi è che ha mai partorito il figlio di Dio chi tra le donne ha mai fatto nascere il figlio di Dio è normale c'è una grazia che si è manifestata sopra questa donna è normale che tutte le generazioni diranno beata lei ha fatto un qualcosa che nessuno ha fatto in passato e farà nel futuro ma ripeto anche quello che ha fatto Noè lo ha fatto lui in quel tempo e non lo farà nessuno anche essere il fondamento parte le prime pietre che edificano la chiesa è un qualcosa che è successo una volta non succederà noi più noi siamo tutte pietre che vengono messe sopra che camminano sopra il loro la parola che Dio ha dato per mezzo di loro no è normale che c'è una beatitudine cioè lei ha fatto Dio si è servito di lei Dio ha voluto servirsi di lei per far nascere il Messia ma non ha detto e io mi porrò alla destra del Cristo e io salirò in cielo alla destra di Gesù Cristo e io sono innalzata al di sopra di ogni creatura sono migliore di tutte le altre creature sono speciale ma hai detto questo queste sono parole che usano i perduti che non conoscono la parola di Dio coloro che ancora non hanno conosciuto Dio che se lo hanno conosciuto se ne sono si sono allontanati e piano piano stanno subendo una metamorfosi al cattolicesimo e questa metamorfosi ti conduce alla morte semplicemente perché dice da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata perché ma te lo dice già lei perché è speciale perché è migliore degli altri perché ha qualcosa in più di noi no perché grandi cose mi ha fatto il potente santo il suo no sono belle le cose che fa il potente anche la nazione di Israele era beata perché fu scelta da Dio per essere la sua nazione prediletta poi loro non hanno camminato nella giustizia di Dio e va bene ma non per questo Dio li ha rigettati è guai a chi dice che Dio ha rigettato il suo popolo Paolo è chiaro Dio non ha rigettato il suo popolo che gli ha preconosciuto il popolo di Israele non può essere sostituito da nessuno non lo ha rigettato quindi anche loro erano beati perché Dio gli aveva dato la legge i patti le promesse quindi erano beati come nazione come lei come tra tutte le donne fu scelta lei in quel tempo e la beatitudine di Dio è su di lei beata è certo ma non beata intesa nel senso cattolico che viene innalzata in cielo alla destra del figlio come cosalvatrice corredentrice mediatrice o no lei si è addormentata come tutti noi e va nel luogo preparato da Dio punto in attesa della risurrezione dei morti niente di più niente di meno e non è poco niente di più niente di meno nel senso che che non è quello che viene detto dai cattolici che è al di sopra di ogni creatura ma lei attende come noi cioè siamo seri siamo portatori del messaggio della parola di Dio e non di messaggi falsi perché poi invitiamo le altre persone veramente a credere nella menzogna la parola di Dio ci dice non fatevi tutti da maestre bene è un ottimo consiglio perché viene dallo spirito santo perché perché se ci facciamo tutti da maestri siamo tutti portatori di un qualcosa ma se non siamo guidati da Dio ci facciamo guidare dai padri della chiesa ci facciamo guidare da questo da quello da quell'altro no noi ci facciamo guidare dallo spirito santo poi ci sono i ministeri che per la grazia di Dio vengono dati ma quei ministeri le dottrine e gli insegnamenti vanno vagliati attraverso la parola di Dio e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono cioè Maria stessa lei nella sua bassezza ti sta spiegando perché la grazia di Dio si è posata su di lei perché lo teme e dice la sua misericordia si estende su generazione e generazioni su tutti coloro che lo temono io lo temo e la sua misericordia si è posata su di me in questo tempo come la misericordia di Dio si opererà posandosi su altri in altri tempi la parola è semplice poi purtroppo la vogliamo far diventare complicata ma è semplice io io dico qualcosa di semplice perché lo dobbiamo complicare egli ha operato potentemente con il suo braccio ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore ha detronizzato i potenti ha innalzato gli umili ha colmato di bene gli affamati e ha rimandato a mani vuote ricchi ha soccorso Israele e suo servitore ricordandosi della sua misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi poi se ne ritornò a casa senza togliere del fatto che Maria affrontò un qualcosa di importante perché Giuseppe per la grazia di Dio ha accettato però lei non sapeva che Giuseppe avrebbe accettato quindi una donna che si doveva sposare che rimaneva incinta di un altro uomo doveva essere lapidata quindi Maria è andata incontro a un qualcosa di importante per fede ed ha creduto riposto la sua fiducia nell'Eterno l'Eterno ovviamente ricompensa che si muove secondo la sua volontà vado alla chiusura di questo video un'altra cosa Maria oggi oggi Maria ecco il Signore nel senso che si è addormentata andata nel luogo dove doveva andare e così via ma ma oggi Maria è ancora madre di Gesù c'è chi dice di sì c'è chi dice che Maria è ancora madre di Gesù Cristo c'è che è ancora la madre del nostro Signore certo il nostro Signore uomo quando è nato prima della sua morte e della sua resurrezione perché una volta che Gesù è morto ed è risorto lui se ne è ritornato alla sua gloria e lì non c'è madre quindi non è più madre del nostro Signore Gesù Cristo oggi vorrei leggere un passo in secondo Corinti in secondo Corinti 5 dal versetto 16 dice così quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano ora però non lo conosciamo più così perché non lo conosciamo più così perché noi abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano come figlio di Dio nella carne venuto come agnello e così via ma oggi noi noi lo conosciamo con quella gloria che lui si è ripreso quindi non è più capite il figliuolo di Maria lui è Dio punto e chiunque si ostina a dire il contrario vuol dire che sta dicendo che Maria è madre di Dio questo non è fattibile non è fattibile e si fuoriesce dalla parola di Dio per inserire dottrine insegnamenti sbagliati no non è più madre del nostro signore perché il nostro signore è nato come uomo ha avuto una madre come uomo è morto risorto è stato glorificato si è posto nei cieli punto si è ripreso la sua gloria non c'è più madre non ci ostiniamo a dire menzogne perché non è questo che ci insegna Gesù Cristo il signore ci insegna la parola noi Cristo non lo conosciamo più da un punto di vista umano carnale basta è stato glorificato è tornato nel suo luogo è salito nei cieli gloria a Dio egli è Dio Dio onnipotente basta egli Dio onnipotente non ha madre capiamo che Dio onnipotente non ha madre o vogliamo farlo rimanere Gesù Cristo uomo a vita eh no non è più Gesù Cristo uomo ora è Dio essendo Dio non ha madre io non so perché ci si ostina a dire cose che non hanno né capo né coda ma la parola di Dio non ci insegna questo Gesù Cristo non è più figlio di Maria punto lo è stato ma non lo è più ma è stesso lui che ce lo dice vogliamo vedere che è stesso lui che ce lo dice andiamo in Giovanni quando Gesù stava per morire in Giovanni 19 Giovanni 19 dal versetto 25 Gesù era già in croce e ci dice così presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre Maria di Cleopa e Maria Maddalena Gesù dunque vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava disse a sua madre donna donna ecco tuo figlio verso Giovanni donna ecco tuo figlio perché certo un figlio ti è stato tolto che sono io ecco tuo figlio e poi dice poi disse al discepolo ecco tua madre e da quel momento il discepolo l'ha presa in casa suo questo donna ecco tuo figlio non è che Dio che Gesù stava consegnando ognuno di noi a Maria come figli di Maria queste sono le bugie dei cattolici e oggi tanti protestanti e tanti evangelici più che protestanti qua parliamo di evangelici che hanno conosciuto la verità se ne stanno scendo con questa menzogna Gesù non stava consegnando noi alla maternità di Maria ma stiamo scherzando ma quale vangelo stiamo leggendo ma stiamo scherzando veramente qua Gesù semplicemente gli sta dicendo basta la nostra parentela è finita perché io sto morendo e io sto morendo come uomo e quando risorgo io torno alla mia gloria quindi non ho più madre e tu non hai più figlio perché tuo figlio sta morendo qua in questo momento ma colui che risorgerà è l'eterno punto il verbo che se ne ritorna al suo luogo quindi la nostra parentela si è conclusa perché andiamo avanti a dire che Maria è madre di Gesù Cristo basta ma perché andiamo oltre a quello che insegna il Vangelo ma stiamo scherzando ma per favore puoi dire che noi siamo figli di Maria noi perché siamo fratelli di Cristo perché la parola ci dice che Cristo è il primo genito tra molti fratelli ameno gloria a Dio Cristo è il primo genito fra molti fratelli e noi che abbiamo creduto diventiamo quei molti fratelli ma ricordiamoci che noi non siamo nati da Maria noi siamo rinati dalla parola di Dio noi siamo rinati dal seme incorruttibile che non sono nati da carne da volontà d'uomo di carne ma sono nati da Dio la nostra fratellanza con il Cristo non ce l'abbiamo per mezzo della donna di Maria ce l'abbiamo per mezza per mezzo del padre e per mezzo di Dio che ci ha adottati come figli che noi abbiamo la nostra fratellanza con il Messia che siamo coeredi del Cristo ed eredi di Dio non per mezzo di Maria Maria non è mia madre ma Dio è mio padre gloria a Dio Dio è mio padre Maria no perché la parola di Dio non mi insegna questo io non sono Giovanni nessuno di noi è Giovanni fu detto a Giovanni punto si conclude lì ripeto un episodio non forma una dottrina formare una dottrina su un episodio vuol dire contorcere la parola di Dio ed andarsene per altre strade andarsene per altre strade che non producono nulla non producono nulla anzi in Giovanni 17 dal versetti 3 al 5 ci dice così qua Gesù che parla e dice questa è la vita eterna che conoscano te il sole vero Dio e colui che tu hai mandato Gesù Cristo io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare oro padre glorificalmi tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse questo era il desiderio del Messia del Cristo spogliarsi perché lui si era spogliato della sua natura divina per diventare uomo nascendo da una donna ma il suo desiderio era quello di rispogliarsi nuovamente di questa natura umana per ritornare alla gloria nei cieli ma ovviamente per fare questo doveva passare per la morte glorificami ora io sto per morire sto per glorificare te mi spoglierò della mia natura carnale umana per mezzo del quale io mi sono rivestito per distruggere il peccato e la morte e ora avendo distrutto la morte io salirò una volta distrutta la morte io tornerò a quella gloria basta basta non c'è più nessuna parentela con il con il figlio di Dio con Dio non c'è nessuna parentela nella carne basta si è interrotta è finita basta il suo desiderio era quello di salire in cielo poi certo possiamo vedere che Maria durante la sua vita era incredula dopo aver fatto nascere il Cristo lei è rimasta incredula poi dopo sappiamo che si è convertita perché la vediamo riunita insieme agli apostoli ma durante il tragitto di Gesù lei come madre e ovviamente nei confronti del figlio guardava nella 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 maniera carnale umana e quindi ovviamente rimaneva incredula l'azione dello spirito dopo però si è convertita basta si è concluso basta cioè nel senso non andiamo oltre non andiamo oltre normale che ti verrà presentata da altre parti come Maria madre del Signore ma è normale perché così che la conosciamo così che è distinta dalle altre ma non è madre di Dio Gesù è Dio punto è tornato alla sua gloria Giovanni 1 qual è la gloria del Cristo Giovanni 1 ce lo dice nel principio era la parola la parola era con Dio e la parola era Dio essa era nel principio con Dio ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza dire neppure una delle cose fatte è stata fatta lei era la vita e la vita era la luce degli uomini ok ecco a quale gloria è ritornata è ritornato ad essere Dio punto basta perché certo vero uomo è vero Dio sulla terra ma ovviamente ha camminato come uomo quindi aveva la natura umana sottoposto alla parentela umana una volta che lui è tornato alla sua gloria e basta quella parentela si è conclusa boh Maria non è madre di Dio è madre del nostro Signore Gesù Cristo uomo basta ora non lo conosciamo più così è tornato alla sua gloria quindi non andiamo oltre non andiamo oltre io chiudo qua do la pace del Signore a tutti e vi benedico nel nome di Gesù grazie a tutti